Buongiorno Spinazzola, Raffaele Carrella. Lei in passato dichiarò che nella sua carriera c'è stata un'influenza importante di un giocatore come Zambrotta, per cui sembra che lei si ispiri molto a lui. Quali sono le peculiarità che lo accomunano? Quali sono le sue capacità nei confronti di un giocatore di questo livello? Forse uno dei più forti terzini della sua generazione. E poi le chiedevo quali sono le differenze dell'allenamento tra la Roma quando lei era lì e da oggi non la fatica fisica che mai si è capito, ma quella tecnica tra Conte e quello che lei faceva con la Roma. Grazie. Allora, Zambrotta sì, è stato un esterno alto come me e poi è andato a fare il terzino, è diventato un terzino. Zambrotta è Zambrotta. Abbiamo caratteristiche anche diverse. però è chiaro che è un mio punto di riferimento. Rispetto agli altri anni, diciamo che c'è molto più tattica, molto più tattico, riconosco un gioco più simile a Gasperini, come livello di concetti e come il resto. Perché a Roma con il mister Mourinho usavamo molto il 3-5-2, non è proprio il 3-4-3 classico. E quindi è totalmente diverso. Prima di tutto benvenuto. Il motto di quest'anno, Amma Fatica, sembra essere stato creato apposta per te vedendoti in allenamento, che però tu hai trasformato con il primo gol di questa stagione in Shkassam Tutta Cosa, che significa andiamo a vincere con personalità. E allora io ti chiedo, come hai trovato le motivazioni dei tuoi compagni, quelli che hanno partecipato alla stagione dell'anno scorso? Io penso che il motto ci sta tutto, visto questi i primi sette giorni. E le motivazioni dei miei compagni sono alte, anche perché il mister su questo è veramente forte ad alzare l'asticella sempre ogni giorno, sempre di più. Quindi le motivazioni sono altissime. Croneche di Napoli e si prepara Otto Channel. Salve Leo, ci puoi spiegare che cos'è l'effetto conti, ovvero per un calciatore quanto è importante essere allenato dal mister e dal suo staff? Grazie. Il mister, come detto prima, cerca di spingerti oltre al limite sempre. Anche una banale tattica, cerca di spingere sia mentalmente che fisicamente. Poi ha dei concetti che sono molto validi, che se ascolti le sue parole, le sue idee, sono grandi concetti. Però è presto, manca ancora un mese e c'è ancora tanto lavoro da fare.